Sono l'ingegnere Maurizio De Gennaro, sono il presidente del Centro Regionale Istituto Urbanistici del Veneto. La nostra attività e i nostri obiettivi sono quelli di promuovere ogni iniziativa relativamente alle tematiche della pianificazione territoriale, alla programmazione del territorio, all'edilizia, all'ambiente, alla tutela, salvaguardia, promozione del paesaggio. I nostri scopi sono quelli di poter quindi fare iniziative di attività culturale per le attività dell'ingegnere e quindi con visite, sopralluoghi, a monumenti, a qualsiasi cosa che ricordi il passato o il paesaggio. Abbiamo anche però fra le nostre finalità quelli di poter fare consultazione, attività di consultazione, attività di verifica relativamente agli atti e documenti prodotti nel governo del territorio. Attualmente abbiamo proprio in essere un'attività di verifica, di consultazione relativamente al nuovo testo unico per il governo del territorio e del paesaggio del Veneto, legge promulgata dalla regione del Veneto e attualmente in seconda commissione territoriale.